Cominci, con me tutti i giorni oggi mi sono alzato e sono andato a lavorare. Sono arrivato alla fermata del tram ma mi sono accorto che il tram non passava, non passava mai. C'era un sacco di gente in attesa e nessuno riusciva a capire il motivo per cui i mezzi pubblici appunto non transitassero. Fino a che una signora a un certo punto ha detto ma oggi è venerdì e io le ho chiesto ma questo cosa significa, cosa comporta. Il venerdì c'è sciopero ed è vero ogni venerdì a Milano c'è sciopero. Una volta sono gli studenti, un'altra volta sono gli studenti del liceo, un'altra volta ancora sono i feri di tramvieri e così via. A questo punto facciamo una cosa, il venerdì è la giornata nazionale dello sciopero ma tutti i venerdì e tutti i venerdì si sta a casa senza tante complicazioni. Poi dopo mi sono camminando verso il giornale mi sono imbattuto nel corteo degli scioperanti che erano i ragazzi delle superiori. E c'è una cosa che mi ha colpito moltissimo, non sono stato colpito dai cori che erano scontati, che siamo tutti clandestini e così via. Non sono stato colpito dal fatto che bruciassero le bandiere della Lega e impiccassero i fantocci di Salvini. Non sono stato colpito dal fatto che se la sono presi con il Movimento 5 Stelle. Non mi ha sorpreso il fatto che abbiano attaccato i simboli, quelli che loro ritengono siano i simboli del capitalismo come le banche ad esempio. Quello che mi ha sorpreso è un'altra cosa, che quando la televisione ha chiesto a alcuni ragazzi di correre verso la telecamera, questi lo hanno fatto come se fossero, non lo so, dei figuranti in un film. Questo fa capire quanto sia superficiale e completamente inutile questa protesta, che poi parliamoci chiaro, a ottobre e a novembre scioperano il venerdì, tra qualche settimana occupano, così le vacanze di Natale sono un po' più lunghe. Che tristezza!